Grazie a tutti. Stefano, molla il set. Tommy, registri dopo. Benedetta, non puoi capire. Bruno, a te piacerà tantissimo. Beh? C'è una novità. La mia nuova tv Sky Glass. Wow! È fantastica, Stefano. Ma è stato così definito. Fino all'ultimo pixel. E Tommy, ascolta. Ammazza che sound. Una tv blu? Scecchissima. Ma adesso ce lo guardiamo un film? Ciao Sky, cerca un film italiano. È arrivata Sky Glass, la prima tv di Sky. Sky, Sky Glass, molto più di una tv. Scusi, cos'è Scelte di Benessere? Venga, l'accompagno. Con Scelte di Benessere accompagniamo chi sceglie di stare bene con se stesso e con l'ambiente. In offerta, linea bucato ed ammorbidente verso natura. Conad, persone oltre le cose. La nostra identità è stata frammentata, ricomposta, unita, cambiata e reinventata. Come sarà, è tutto da scrivere. E noi abbiamo già cominciato. L'identità, il nuovo quotidiano che racconta l'Italia, online e in edicola. Greco, una collana inedita dedicata alla lingua e alla cultura di una grande civiltà. In ogni libro un'importante pagina di storia antica e una lezione del corso di Greco con grammatica, esercizi e giochi. Il primo volume è in edicola con Corriere della Sera. Siamo tornati dalle vacanze, siamo tornati a scuola e ora di tornare da Acqua e Sapone. Andiamo a fare shopping insieme. I Provenzali è il brand che da sempre è attento alla qualità e alla sostenibilità dei suoi prodotti. Prova l'olio di mandorle e dolci in offerta a 4,75 euro. Ottimo elasticizzante per la pelle particolarmente secca. E per una pelle morbida e levigata prova l'olio di karité a soli 5,75 euro. I Provenzali, naturale, biologico, sostenibile. La schiuma da barba Nivea Man e le varianti Sensitive e Sensitive Pro è a 1,99 euro. Prova anche il dopobarba e la crema Sensitive, li trovi a 5,49 euro ciascuno. Testo d'acqua e sapone con due prodotti Nivea Man di cui almeno un dopobarba o un cura viso uomo. In omaggio una doccia Nivea Man Deep da 250 ml. Festeggiamo i nonni da Acqua e Sapone. Sabato 1 ottobre con una spesa minima di 20 euro. In regalo il set da due tovagliette Easy Life disponibile in quattro varianti. Acqua e sapone, oltre la convenienza. Fratelli d'Italia al 26%, Meloni pronti a governare, Salvini deluso, brava Giorgia. Lavoreremo a lungo insieme. Forza Italia, saremo decisivi per il governo. Letta ha fallito obiettivo di fermare la destra. Colpa di Conte che ha fatto cadere Draghi. Opposizione per tenere l'Italia nel cuore dell'Europa. Non mi ricandido, serve un nuovo PD. La rimonta dei 5 Stelle, successo al sud. Conte ci davano per finiti, siamo terza forza. Soddisfatto il terzo polo. Calenda, in due mesi costruita a casa per i riformisti. Vincitori e vinti nei collegi. Fuori dal Parlamento, Di Maio battuto dall'ex ministro Costa ed Emma Bonino. Passano Casini e Laria Cucchi. Isabella Rauti supera Emanuele Fiano. Bruxelles pronti a lavorare con il prossimo governo. Parigi, vigileremo sui diritti. Complimenti a Meloni da Polonia, Orbán e Le Pen. Il Cremlino, benvenute forze più costruttive e obiettive. Buongiorno dal Tg3 Annetta.